La depressione centrata tra la Francia e il Piemonte richiama verso la nostra regione correnti meridionali a tratti umidi ed instabili. Domani la depressione si porterà sull'Alto Adriatico per poi portarsi domenica verso i Balcani e sulla nostra regione giungerà un promontorio anticiclonico che porterà tempo un po' più stabile. Per sabato prevediamo cielo in genere variabile su tutta la regione e sarà possibile qualche rovescio o qualche temporale. Le temperature saranno leggermente sotto media con temperature massime attorno ai 26 gradi sulla pianura e sulla costa. Domenica tendenzialmente bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione al mattino. Nel pomeriggio un po' di variabilità in montagna. Temperature massime leggero aumento con valori attorno ai 28-29 gradi su pianura e costa. Soffierà un po' di burino al mattino, brezza nel pomeriggio. Per lunedì e martedì tempo buono, forse lunedì qualche nube in più, martedì cielo probabilmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione e temperature massime attorno ai 30 gradi. Dall'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanotto.